Dieci quadri uguali, dieci quadri uguali in sto posto del pifo Sono nelle fogne che si chiedono Sto facendo gli insulti alla colonna Ok PAPAPERO PAPAPA FRAGIL NA 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 E' certo se vai in pezzichia che paga dopo UNO! 2 mi tocca pulire a me Vabbè che ho lo scopettone potenziato però mi manca ancora la paletta per tirar su... i frammenti E' Mastro Lindo Junior all'inizio della sua carriera non potete prendere troppo pulisce a poco o non pulisce a una mazza quindi non lamentate in sto punto se si cade giù di sotto si deve riaffrontare in modo di identifizio la rottura di Mario Bastardo! NA 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 io vado un po' lento in sto pezzo ma... giusto per non rimanere impigliato e per sicurezza ecco una porchera del genere ma va però... se si riesce ad arrivare lì ma ci sono ancora un sacco di sfere rossa mi chiamo nero ma sono bianco pulisco tutto da uno straggio e va faccio la 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 Ancora, mi lamenti mai di capare? Tranquillo, lui si rialza, adesso l'ammazzo! Pum, morto! Cascate di Forest, che nome di minchia! Non so perché mettono la mappa in basso a destra, che deve mai creare uno dei giochi in cui la mappa non serve più a una mazza Uno, due, perché in basso a sinistra invece fanno apparire i nomi dei luoghi che poi nessuno li legge mai perché neanche si vedono a momento E' una baioccata Ma di due coglioni ha buttato Colpo caricato nel braccio, a far figlio di fare quei colpi nei bracci Oh, che c'è la c'era! Mamma mia che culo, l'ho evitato del zavore, allora Tappo lento Che figata, cioè io ero davanti e lui mi ha mancato, ma è possibile Mamma mia che cose strane, cioè no davvero, certe volte quando uno si sbatte a voler evitare gli attacchi viene colpito, quando uno invece non vuole evitarli magari vuole farsi colpire e non lo colpiscono, com'è sta storia, i misteri dei giochi, acqua salta, non serve per benedirsi perché in quel caso non servebbe proprio una mazza, era molto utile perché danneggia tutti i nemici nella vicinanza, fa dei danni abbastanza pesanti, peccato che più si va avanti e con il livello di difficoltà più l'effetto diventa ridotto e vabbè può capitare, non si può avere sempre tutto dalla vetta puoi avere un lucano se vuoi però è un lucano, è un lucano, è un lucano, è un lucano che si è lui Che cazzo, vai, mero! Oh, no, no, no. Io spacco tutto, intanto poi pulisce Papu, fa diventare tutto lucido come la sua crappa. Ovvio, dentro io si chiude tutto, chissà perché. L'enciclopedia della pulizia, come far diventare pulito anche uno stroncio. Come ha fatto un coso così a passare dalla porta, scusa. E largo due volte. E quindi, sei dopo questo ragazzo o sei qui per trovare dei demoni? Silent type, huh? Well, that's annoying. Watch for friendly banter. Ok, capisci. C'è questo? Non avevano compito tutta la missione, porca troia, adesso mi confiscono Ma vaffanculo che domina la missione senza tanti Ma vaffanculo, porca bellana, tutte le volte Tutte le volte Ma vaffanculo, minchia, ti do un muro e sbatta la manetta contro il muro, oddio Che coglioni E' vero Non è la prova per dimostrarlo, non c'è più il corpo del reatto Hmm, il demonio possiede l'armamento dell'ordine Non è un buon signo Ma lui c'entra con finito, potrebbe essere una trappola, ma tranquillo A che cazzo servirà? E lui ovviamente si immagina, lui capisce subito che gli serve per quelle cose li Certo, ovvio Potrebbe servire anche per pulire i cessi e lui capisce, eh, non mi serve per... Beh, beh, beh Ma vaffanculo, missione di merda Ma vaffanculo, missione di merda Che palle Ma com'è B? Ma com'è B sere? Ma quando mai io prendo B nelle sere? Prendo sempre A E arriva sto babbo Ti diamo B Bastardi Certo Adesso che registro i video Si è messo a fare mici scherzi Così la gente pensa che faccio cagare a sto gioco Maledetto Maledetto Beh Vabbè Poco male Intanto la s l'ho presa subito Ovviamente E... E basta Ho finito Ciao Ciao Ciao